Dottor Sola, a fine mese presenterà i conti della sua gestione all'Assemblea dei Soci di Expo? Non ho capito bene se questo avverrà quando avverrà, diciamo che però da un lato sono molto contento di quello che dice Grande e quindi di conti in miglioramento, dall'altro lato però per me certo non è una sorpresa, adesso aspetto che me li mandino perché io non ce li ho e quindi ha ragione lei che poi formalmente ci dovrà essere un passaggio di consegna della mia gestione, non so quando sarà però. E questo potrebbe essere già considerato un po' il bilancio? Sì, fondamentalmente sì, perché da quello che capisco i revisori hanno approfondito ancora tutte le partite, gli stanziamenti, quindi credo che sarà ancora più vicino a un bilancio. Quindi arriverà prima del voto? Ma speriamo proprio di sì, è quello che no, è quello che chiedo anch'io obiettivamente, anche perché vedete che i conti sono meglio del previsto, per cui vorrei che venissero fuori il prima possibile. Grazie a voi!